Come possiamo trovare il nostro massimale in palestra senza neppure bisogno di provarlo? Ciao, io sono Nicola Strobini, Strength & Power Coach specializzato nel miglioramento della performance fisica e oggi voglio mostrarti come utilizzare Viking Strength Calculators, la mia app, per trovare il tuo massimale senza neppure bisogno di testarlo. Apriamo quindi l'applicazione Viking Strength Calculators e sui calcolatori di Power Building clicchiamo su Stima 1RM da carico RPE. In questo caso possiamo quindi andare a inserire i nostri dati molto rapidamente. Ad esempio abbiamo fatto in una serie tre ripetizioni con 120 kg e poi indichiamo l'RPE percepito, quindi lo sforzo percepito nella singola serie. Io in questo caso, in questa serie, ho percepito un RPE 8, che significa che avevo due ripetizioni in riserva, quindi lo inserisco. Clicco Calcola ed ecco il massimale stimato. Ovviamente è solo una stima, ma ci va molto, ma molto vicino e spesso a volte ci prende alla perfezione. Quindi scarica Viking Strength Calculators per stimare subito il tuo massimale in palestra. Allenatevi!